Andiamo Non importa, troverò un nuovo percorso. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Iniziamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a destra. Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andare dritto. 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 Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.